Siamo con Antonio Miccoli, titolare dello Zilig Bar in Via Mendola 13 a Grottaglie. Antonio, qualche tempo fa ci siamo trovati su un campo di gioco per parlare del Montemesola. Da allora la squadra ha praticamente sempre vinto. Buonasera a tutti, è stata una cosa bellissima, una bella realtà. La squadra sta crescendo con ottimi risultati, quindi l'investimento fatto sui ragazzi sta portando già i risultati che speravo. Adesso puntiamo sempre in alto perché non ci fermiamo e quindi vediamo il seguirsi della situazione. Che dire, è una cosa fantastica. Lo Zilig Bar, oltre a essere il main sponsor della Trecoli Montemesola e da qualche tempo anche sponsor di tutto Sport Aranto, continua la tua mission per favorire, per promuovere lo sport nella provincia di Taranto. Beh sì, è una cosa che va a braccetto perché ci occupiamo anche di salute e benessere a 360 gradi e quindi lo sport con quello che proponiamo vanno a braccetto. È un progetto che voglio portare avanti con tutte le forze e con dei risultati ovviamente positivi. Lo Zilig Bar non è il solito bar attraverso il quale poter fare colazione e ovviamente soffrire dei soliti prodotti da bar. È un locale, è un punto d'incontro dove poter appurare la conoscenza di alcuni prodotti per la salute e per il benessere e ovviamente uscire fuori da questo locale con il sorriso. Beh sì, certamente, offriamo una gamma di prodotti e servizi di altissima qualità per quanto riguarda la salute e il benessere, prodotti naturali, a parte il fatto che sono un partner di un'azienda multinazionale molto importante che offre dei prodotti al 100% naturale per salvaguardare la propria salute e il proprio benessere. Questo per quanto riguarda chi pratica lo sport ma anche chi non pratica lo sport quindi per stare bene oggi in salute con se stessi. E quindi offriamo dei prodotti dalla centrifuga a prodotti naturali all'integrazione sportiva ha delle spremute di melograno frutto che sta dando dei risultati sorprendenti abbiamo una realtà qui da noi con melograno quindi facciamo delle spremute di melograno di pompelmo, arance, quindi dei servizi a 360 gradi di altissima qualità ovviamente e selezionati. Abbiamo alcuni contatti per i nostri telespettatori e lettori di tuttosporttaranto.com la pagina Facebook Zelligbar ma soprattutto invitiamo tutti a recarsi qui in via Mendola 13 a Grottaglia per apprezzare le bellezze di questo locale gastronomiche e non solo. Ringraziamo il titolare Antonio Miccoli. Ringrazio tutti voi e mi farebbe tanto piacere che tutti quanti visitassero il nostro punto store in modo tale che possono toccare con mano la realtà che abbiamo con prodotti di altissima qualità dai distillati a prodotti di qualsiasi tipo di consumo che uno ne fa e quindi mi farebbe tanto piacere che mi... Ricordiamo proprio il sito ufficiale www.zeligbar.com Allora un saluto ai lettori di tuttosporttaranto.com ed evviva lo Zelligbar!